Tanti cantieri relativi alla viabilità cittadina in questo 2023 nella città di Pesaro, tra i più significativi anche per la portata in qualche modo rivoluzionaria dei collegamenti è quello che andrà a legare il quartiere di Vismara al quartiere di Torraccia, diciamo anche due delle zone fisiologicamente più scollegate della città e invece c'è questo cantiere assolutamente rilevante da questo punto di vista. Sì, devo dire che è un lavoro forse uno dei più importanti rispetto alla bicipolitana pesarese, è una richiesta che i quartieri ci facevano da tanto tempo, una comunità iniziamo tra Cattabrighe e Vismara che era scollegata, poi con la strada che chiamiamo strada del Famila siamo riusciti a collegarla, ora abbiamo realizzato appunto la ciclabile di via Lire Lambro che per qualcuno sembrava non portasse a niente, invece porta all'intervento più importante e strategico, quello del collegamento appunto tra Vismara e Torraccia, da qua la ciclabile sbuccherà nella rotatoria di Santa Colomba per poi arrivare, se voi vedete su via Garin c'è già un attraversamento pedonale in due fasi vicino alla Guardia di Finanza e quello è l'attraversamento che ti porta sulla ciclabile del fiume. Quindi i residenti di Cattabrighe e di Vismara potranno arrivare in bicicletta senza più passare sulla statale e arrivare al centro commerciale, all'impianto sportivo o se vogliono andare in bicicletta possono andare fino al mare utilizzando la ciclabile lungo il fiume. Ricordiamo la portata anche dello stanziamento su questo tipo di lavoro e anche una presumibile tempistica. I tempi di realizzazione sono nove mesi da contratto, 270 giorni come riportato anche nel cartello di cantiere, contiamo di rispettare i tempi anche perché è un'opera a cui teniamo in maniera particolare, l'impegno di spesa è di circa un milione di euro, quindi un intervento importante perché anche se è molto corta però deve passare sotto la ferrovia con tutti gli annessi e connessi che ci sono, sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista dei tempi di realizzazione perché quando si lavora sulla linea ferroviaria poi le prescrizioni sono tante.